Cinque giorni di chiusura per il Seven Apples di Marina di Pietrasanta. L'ho stabilito il questore di Lucca, Dario Sallustio, che venerdì mattina ha firmato il provvedimento di chiusura per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Tonfano, la celebre discoteca di Focette si è resa a teatro di eventi violenti. In particolare la notte del 25 aprile scorso, una rissa fra più persone che ha coinvolto anche addetti della sicurezza del locale. La notte del 1 maggio, invece, i carabinieri di Viareggio sono dovuti intervenire per un'accesa discussione fra una ragazza in preda ai fumi dell'alcol e il responsabile della sicurezza del locale. L'iteca ha portato ad una lesione anche ai danni delle forze dell'ordine intervenute per sedare la ragazza. Da qui la decisione di chiudere il Seven per cinque giorni. Un provvedimento, spiegano dalla questura di Lucca, che mira, vista l'imminente stagione estiva, ad innalzare i livelli di sicurezza e stroncare la malamovida, fenomeno che ogni estate e ogni weekend in particolare attanale a focette d'intorni.